Noi ci teniamo sia la Coppa Italia che il campionato, il campionato principalmente. Coppa Italia fa sempre piacere andare avanti, oggi credo che contro una formazione di C1 non ci sia stata differenza, anzi abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, abbiamo creato qualche occasione in più rispetto a loro e credo che alla fine il risultato sia più che meritato. Un'ottima prova particolarmente nel primo tempo la parte della squadra? Io direi che è stata un'ottima prova generale alla fine, anche perché la squadra ha espresso in alcuni fragendi ha giocato bene, in alcuni un po' meno, però si poteva anche capire perché era un gruppo di ragazzi che per la prima volta giocavano tutti assieme, non è che erano abituati a giocare assieme, quindi sono contento per quello che mi hanno fatto vedere oggi contro una buona squadra, quale è il Tappani. Un buon debutto di Sirignano, bene in difesa e anche di Bordini. Beh quello fa piacere, oggi la cosa importante era fare un buon test e cercare di battere una squadra di categorie superiori rispetto a noi, l'abbiamo fatto con meriti e credo che alla fine è una vittoria meritata. Andando avanti i test finali, andando avanti i test finali? Ma questo non so, se noi diamo spazio a chi gioca di meno in Coppa Italia è normale, però è normale che quando si arriva ad un certo punto poi uno ci inizia a credere e inizierà anche a puntare pure sulla Coppa Italia, noi per il momento quelli che sono stati impegnati in Coppa Italia hanno sempre fatto bene, hanno disputato sempre buone partite, quindi darò sempre fiducia a loro fino alla fine. L'esperimento dei figli o meno dietro le due punti, ora magari con altri uomini può essere riproposto anche in campionato? Beh, può essere riproposto, l'abbiamo già fatto altre volte con Carboni dietro le due punti, dipende sempre dalla squadra che si va ad affrontare, se è una squadra che gioca con due mediani davanti alla difesa è normale, gioca con tre quarti che ha più spazi e più libertà per fargli male. Saludant purtroppo è un ragazzo che è un ottimo calciatore e quello non si discute, è arrivato qua con tanti problemi fisici, ora ha recuperato, sta recuperando però ancora non è al massimo, di sicuro è un buon elemento da tenere in considerazione. Io oggi ho sentito l'intervista di Conte, ha detto che c'è Coppa Italia e il campionato e vuole vincere entrambi, quindi anche noi vogliamo vincere entrambi. La prestazione di qualcuno mi darà da pensare per domenica? Beh, chi oggi mi ha fatto vedere qualcosa sicuramente domenica sarà premiato, come ho sempre fatto, c'è anche da considerare che non è che era il trappane dei titolari, ce ne erano 4-5 e da noi non è che era il cadanzaro dei titolari. Quelli che hanno giocato oggi hanno fatto bene, mi hanno fatto vedere qualcosa di importante, di sicuro gli riconoscerò qualcosa e per domenica, se anche qualcuno di loro possa giocare, non è che ho chiuso le porte a qualcuno. Chi sta bene, come ho sempre detto, con me gioca. Mister, uno come figlio o meno è sul mercato? È un ragazzo con volutoria a tutti i costi, quindi non è sul mercato.